Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Qui è 08 che parla Oggi siamo su un video un po' più differente dagli altri Perché oggi Cioè faremo Dei Lego Quindi faremo una casa Lego a caso Con blocchi a caso Quindi prenderemo tutti i blocchi che ci capitano Oddio Oggi siamo con George the Gamer e li impireremo Bene bene Questi qui questi Lego Dovremmo fare una sorta di grande casa Non proprio grande Vabbè comunque una casa Allora direi di iniziare subito Allora Prendiamo già la base Sì che l'abbiamo fatto già Un giorno Un giorno che poi l'abbò distrutta Dettagli Allora Partiamo da questa cosa Questa cosa sarebbe il tavolo E poi ci mettiamo tutti noi Allora Penso di però di allargarla la base No no Lasciamo così Sennò poi è troppo Allora E ragazzi ci vediamo in un tie laps Ciao 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 Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti